Dottoressa, devo fare una precisazione rispetto al suo quesito. Io non ho detto che va tutto bene. Se non abbiamo ancora il documento di aggiornamento, se non abbiamo ancora concordato la struttura di governance, non va tutto bene. Anzi, ho detto che dobbiamo affrettarci, perché se non ci affrettiamo rischiamo veramente poi di arrivare in ritardo. Ho già detto che plausibilmente rispetto ai tempi di approvazione del regolamento, ratifiche parlamentari nazionali, dovremmo poter essere in grado di presentare già a metà febbraio il nostro recovery plan. Quindi non sono affatto qui a dire che va tutto bene. Sto a dire che dobbiamo accelerare. E' la ragione per cui ho subito sollecitato dei contributi alle forze di maggioranza. Li stiamo già esaminando con il ministro Amendola e Gualtieri e avremo una riunione collegiale di confronto. Spero finale che si possa esaurire nell'arco di qualche giorno, quanto prima, già all'inizio, massimo all'inizio del mese di gennaio. Dobbiamo correre, assolutamente. Dobbiamo correre e abbiamo una grande responsabilità. Per quanto riguarda quello che farò nel caso di crisi o non crisi, non mi cimento in questi scenari. Ho semplicemente detto che se ci sarà una... verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza, ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti quanti esprimeranno la propria posizione e ciascuno si assumerà la propria responsabilità. Adesso mettermi qui a fare le varie opzioni alternative secondo me non è assolutamente opportuno, ma anche perché non voglio credere che in un contesto del genere si arrivi a uno scenario del genere. Mi sembrerebbe assolutamente rischioso e insidioso per quel patrimonio di credibilità, di fiducia che abbiamo costruito con l'impegno quotidiano. Ma non solo io, tutti i ministri, tutte le forze di maggioranza, tutti i parlamentari di maggioranza.